Allora questo è un messaggio audio a tutte le persone che mi seguono. Sono un ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Il 10 febbraico del 2001 sono stato fermato dalla Gendarmeria Nera di Roma e sono stato sottoposto a un esperimento militare per il controllo della mente a distanza attraverso collegamenti con un elettroencefalografo elettromagnetico trascranico satellitare che viene puntato attraverso la trigonometria GPS dal satellite all'interno dei miei scinti nervosi centrali, midollo allungato e centri nervosi centrali del midollo osso e della spina dorsale. Attraverso questa tecnologia di controllo e di manipolazione i servizi segreti deviati e mafia militare, terroristi militari effettuano esperimenti per il controllo della mente a distanza con la manipolazione radiocognitiva, manipolazione del ragionamento, manipolazione delle frequenze, delle sensazioni e patologie simulate sul mio corpo di vari tipi di patologie gravi o sensazioni di malesseri di ogni genere, simulano depressioni, simulano attacchi di panico, simulano appannamento della vista, simulano allucinazioni audiovisive e centinaia di altre patologie create attraverso le manipolazioni delle frequenze della risonanza sensoriale sul nostro corpo e sul nostro cervello. Tutta la notte, oggi, i servizi segreti di mafia militare e di terroristi militari mi hanno incominciato dalle ore 21 di ieri sera a farmi lavaggi del cervello e torture interrogatori continui attraverso comunicazioni di servizio satellitari che interagiscono attraverso la nostra corteccia uditiva o patiglioni uditivi e ci mettono suoni, frasi e ci chiamano attraverso comunicazioni di servizio satellitari. In continuazione, tutta la notte, lavaggi del cervello, torture fisiche e psicologiche, manipolazioni radiocognitive. Ogni volta che entravo nella fase REM, i servizi segreti militari mi incominciavano a sparare delle frequenze del dolore e dell'ustioni. Mi hanno fatto andare al bagno ogni ora doveva andare a fare l'orina, ogni ora mi hanno addirittura manipolato il cervello. Adesso alle 7 della mattina è entrato un ufficiale dei servizi segreti della Gendarmeria Nera di Roma che la Gendarmeria Nera di Roma è quella che fa gli esperimenti con i satellite di spia sulle cave umane. Poi abbiamo la Gendarmeria Grigia di Roma che fa partire false indagini antimafia, antidroga, antiterrorismo su di noi per giustificare la magistratura a Roma o la magistratura in Italia che noi veniamo controllati o spiati da false indagini create appositamente con l'auto e l'attestazione dei super satelliti e vedere gli effetti collaterali al lungo termine delle radiazioni sparate sul nostro corpo. La Gendarmeria Nera copre con queste false operazioni partite su di noi questi esperimenti che fa la Gendarmeria Nera. La Gendarmeria Nera collauta e sperimenta le frequenze sul nostro corpo delle armi satellitari, delle manipolazioni mentali radiosatellitari e poi rivende sotto banco a società private in nero queste frequenze e queste tecnologie. Le società private in nero creano brevetti e progetti e collegano queste frequenze a armi satellitari e le armi satellitari vengono praticamente messe su satelliti che poi verranno messi in orbita bassa. Faccio un esempio, la tecnologia viene collaudata su di noi fanno credere che sono indagini ma in realtà sono esperimenti militari su cave umane, torture fisiche, psicologiche, manipolazioni radiocognitive nel cervello della persona, stato di ipnosi, stato di narcolessia indotta e prendono i soldi già dallo Stato. Prendono la tecnologia, il nero la vendono a 200-300 milioni di euro a queste società private, le società private creano i brevetti immettono queste frequenze e questi sistemi sulle armi satellitari quelle definitive e poi rivendono i satelliti alle forze armate o ai servizi segreti di tutto il mondo per 1.000-2.000 miliardi e giochetta è fatto. Questo è il loro scopo, questo è quello che loro fanno, questo è quello che loro cercano di vendere a forza perché la mafia militare e i terroristi militari impongono queste tecnologie che devono essere acquistate a forza dalle forze armate italiane e dalle forze armate di varie altre parti del mondo perché sennò dicono che non riescono poi a tenere testo a debellare le organizzazioni criminali. Se lo Stato o i vari Stati non acquistano queste tecnologie accadono delle anomale situazioni tipo attacco terroristico chimico-batterologico del coronavirus oppure attentati e stragi di cellule impazzite terroristiche che si esplodono dentro gli asilini di caserme o chiese e tutti devono stare praticamente sotto il regime nazista militare della mafia militare e dei terroristi militari perché sennò lo Stato o chi per loro ha dei gravissimi danni derivanti da queste problematiche di attacchi terroristici oppure di gravi perdite finanziarie derivanti determinate tecnologie che non vengono acquistate e che loro dicono che se non si ammodernano con questi sistemi questi Stati non potranno andare avanti, non si potranno alleare con questi lobby a livello di massoneria industriale lobbidi illuminati, lobbidi di servizi sopra istituzionali e tanto altro. Questo è il motivo perché le cave umane vengono sottoposte ad esperimenti continui militari da parte dei servizi segreteviati. I servizi segreteviati per fare questi esperimenti prendono 100.000 euro in nero al mese, in nero prendono 12.000 e rutte ufficiali medici militari 12.000 euro al mese occhio e croce, in più prendono 100.000 in nero tutti i mesi perché il collaudo del satellite quando il satellite poi viene collaudato e attestano le tecnologie sui cave umane, il satellite una volta collaudato vale miliardi di euro e loro lo sanno per questo chiedono cifre stratosferiche. Alle 7 della mattina stanno facendo adesso il cambio del turno, hanno sparato tutte le frequenze fortissime in testa della manipolazione mentale io adesso sto denunciando da tutte le parti questo, se non finiscono a fare questi giochetti di interrogatori, torture, lavaggi nel cervello i servizi segreti deviati, io prendo, mi metto su youtube e incomincio a fare dei video, incomincio a mandare da tutte le parti perché così tutti dovranno sapere che l'arma dei carabinieri che dovrebbe vedere quello che succede la guardia di finanza che dovrebbe vedere quello che succede, la polizia di stato che dovrebbe vedere quello che succede insieme all'esercito, marina, aeronautica e tanti altri servizi segreti civili e militari dovrebbero vedere quello che succede quando vengono effettuati attacchi terroristici con armi di istruzione di massa satellitari che vengono sparati addosso alle persone che per costringerli a indurre al suicidio lo dovrebbero vedere queste persone perché nessuno vede niente, perché la mafia militare e i terroristi militari danno mazzette su mazzette in nero alle parti operativi per non intervenire